ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube come ogni settimana anche oggi vi leggo il volantino della lidl con gli utensili parkside questo è il volantino con l'uscita compresa fra giorno 8 e giorno 14 aprile 2024 giovedì giorno 11 troveremo diversi articoli iscrivetevi perché su questo canale ogni settimana trovate almeno un video che riguarda gli utensili della parkside e sull'altro canale poi trovate il video approfondito in digitale fatto molto più velocemente ma con tutti gli articoli che sul volantino cartaceo non sono presenti quindi cambiare la curatura e guardiamo tutto quello che troviamo commentiamo insieme gli articoli iniziamo e allora andiamo quindi a pagina 22 del volantino da giovedì 11 aprile 2024 troveremo i seguenti articoli voglio fare complimenti pure a chi ha avuto l'idea di fare la grafica della pagina perché ovviamente a fondo verde con utensili verdi praticamente non si vede quasi nulla comunque andiamo avanti il primo articolo che troveremo sarà il tosaerba elettrico costo di 59 euro con un motore turbo power da 1300 watt con elevata forza di trazione altezza di taglio regolabile su tre livelli 20 40 60 mm lama affilata in acciaio con 32 cm di larghezza di taglio sacco di raccolta da 30 litri e manico regolabile in altezza ideale per prati fino a 250 metri quadri buona manovrabilità grazie alla struttura leggera rientranza per il bordo del prato su entrambi i lati per una tosatura precisa vicino ai bordi questa invece la motosega elettrica costerà 59 euro avrà un motore potente da 1600 watt lunghezza di taglio 34 cm o 14 pollici con una robusta catena con un passo da 3 ottavi e 52 maglie di trascinamento per buone prestazioni di taglio velocità della catena fino a 14,5 metri al secondo in dotazione troveremo il fodero per la lama e la chiave multifunzione qua in basso invece troviamo un telo multiuso 4 metri per 5 oppure due teli 2 metri per 5 materiale antistrappo e idro repellente fissaggio sicuro con 16 o 18 occhielli in alluminio in base alla misura ideale per coprire quindi mobili attrezzi al giardino legno a ardere eccetera eccetera qua invece troviamo taglia siepi manuale quindi dei forbicioni a 6 euro e 99 con un massimo diametro di taglio di 6 mm questo invece è un tagliarami con un massimo diametro di taglio di 25 mm sui rami freschi e 15 mm sui rami secchi al costo di 5 euro e 99 e quaggiù forbici per frottatura sono tre tipi a scelta fra incudine bypass oppure universale 3 ore e 99 ciascuno è una di queste ve l'ho già recensita poi invece c'è un supporto oppure arco per rampicanti quindi sono delle strutture metalliche che vanno montate quindi vengono vendute in pezzi separati questa è a forma di arco questa invece una struttura verticale e sono adatte per tutte le piante rampicanti con picchetti integrati per garantire stabilità e sicurezza al costo di 9 euro e 99 l'arco avrà una dimensione di un metro e 33 per due metri e 60 per 38,5 cm di larghezza invece la struttura verticale sarà 40 cm per 40 cm per due metri di altezza a fianco troviamo invece un utensile molto interessante perché adatto sia per il giardino che per il fai da te si tratta di una pistola termica abbraccio lungo due in uno si può utilizzare come diserbante avendo questa maniglia sulla parte superiore quindi riusciamo ad arrivare sul pavimento senza doverci chinare ma questa parte centrale si può anche rimuovere e si può trasformare quindi in pistola la classica pistola per aria calda e quindi utilizzarla per esempio per sverniciare per accendere il barbecue per guaine termorestringenti e tutto il resto costerà 19 euro e 99 assorbirà 2000 watt in dotazione ci saranno diversi tipi di ugello quindi un ugello conico per eliminare l'erbaccio un ugello a spatola un ugello per le superfici un ugello riduttore e un ugello per griglia più il manico con la prolunga dotato di maniglia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche avrà una temperatura regolabile su tre livelli quindi 100 350 e 600 gradi testa dell'attrezza girevole utilizzabile dritta oppure a pistola massimo flusso d'aria 500 litri al minuto a fianco invece troviamo un faro led energia solare con sensore di movimento si può utilizzare in quattro modalità differenti quindi solo rilevamento movimenti illuminazione notturna più rilevamento movimenti oppure 50 per cento di luminosità è spento costerà 19 euro e 99 dotato di pannello solare sulla parte superiore con questo grande pannello led sulla parte inferiore e si può orientare a piacimento sia il pannello in una direzione eventualmente il pannello luminoso in un'altra direzione solo che non ho trovato nessuna parte le informazioni per quanto riguarda la luminosità massima comunque andiamo ancora avanti e questi sono dei guanti da giardinaggio costo di 2 euro e 99 con due colorazioni differenti rivestimento antiscivolo in lattice utili anche quando si devono sollevare comunque prendere degli oggetti che possono contenere delle spine o eventualmente delle schede anche delle piastrelle rotte eccetera quindi sono più indicate per il giardinaggio ma si possono utilizzare anche per il fai da te e le misure sono comprese fra 7 e 10 questo invece una prolunga da 10 metri a 12 euro e 99 con la copertura sulla presa quindi con spina asciugo che può essere utilizzata fino ad un massimo di 3680 watt per ambienti interni o per un utilizzo breve all'aperto si riferiscono ovviamente a condizioni meteo nelle quali si può andare a rischiare qualcosa per esempio la pioggia eccetera ma si può utilizzare tranquillamente in esterno nel caso in cui le condizioni meteo siano favorevoli queste invece sono degli articoli per giardinaggio oppure attrezzo da giardinaggio a un euro e 99 l'attrezzo del giardinaggio si riferisce a questa palette rastrello eccetera e questi invece sono gli articoli da giardinaggio quindi ferrofilato e sia di uno spessore elevato con lo spessore un pochettino più ridotto queste sono delle piccole etichette sulle quali scrivere il tipo di semi che avete piantato il nome della pianta eccetera e questa invece è una sorta di mollettina che può essere utilizzata per diversi scopi ma anche per poter reggere delle piante per esempio collegandole ad una canna di bambù per evitare che si curvino eccetera e costeranno appunto un euro e 99 ciascuno questi sono pantaloni corti da lavoro per uomo in tre colorazioni quindi blu mimetico oppure nero con inserti verde fu oppure beige con inserti neri misure comprese fra 48 e 56 questo invece un set di otto pennelli a 3 ore 99 diverse forme diverse tipologie ma andiamo per il super weekend quindi all'ultima pagina da venerdì 12 al 14 aprile 2024 troveremo la levigatrice a disco scontata del 28 per cento quindi azze che 34 euro e 99 costerà 24 euro e 99 per quanto riguarda le caratteristiche già vi ho fatto una recensione ve ne ho parlato in modo molto approfondito anche se il modello precedente questa conserva le stesse caratteristiche cambia leggermente la lunghezza comunque la 4000 giri al minuto di velocità e il diametro del disco che non sarà adesivo ma sarà con il velcro e di 125 mm in dotazione troveremo se fogli di carta la battuta angolare poi ci sarà anche la morsa per poterla fissare su un manco di lavoro e l'adattatore per l'aspirapolvere e sì questa volta non c'erano tantissimi articoli comunque sono articoli interessanti per chi ha un giardino per chi si occupa di giardinaggio in generale io spero che il video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia vi sia stato utile per conoscere appunto quello che sarà in vendita alla lidl la prossima settimana non mi rimane che invitarvi ad iscrivervi al canale mettere mi piace cliccare sulla campanella ci vediamo a tutti nei prossimi video ciao da riccardo ea presto grazie a tutti grazie a tutti